Se credete che io profano, con la mia mano indegna a questa sacra reliquia, consideratelo un umile peccato, queste labbra da timido pellegrino proveranno ad addorcire il mio tocco brude come potere romano. Alle Franz, come Romeo e Giulietta, la coppia comica ha infatti portato sul palco del Teatro Petrarca una rilettura originale di uno dei capolavori di William Shakespeare. Sono sempre così la stagione teatrale voluta dalla Fondazione Guido d'Arezzo assieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Ollus e al Comune Aretino. Romeo e Giulietta molto fedele all'originale soprattutto perché si recita in stile elisabettiano, quindi solo uomini e questa cosa è la cosa che ovviamente grida alla risata perché comunque vedere sempre degli uomini vestiti da donna come era nel periodo elisabettiano, ripeto, è sempre divertente. Quindi è uno spettacolo nello spettacolo perché comunque è una compagnia di attori disastrati, di attori inadeguati sia per sezzo che per età che per caratteristiche loro, per difetti e pregi che però alla fine per grande amore del teatro riescono a raccontare Romeo e Giulietta la vera storia. E se i suoi occhi fossero veramente nel cielo, le stelle nel suo viso, nell'aria, ci sarebbe così tanta luce che gli uccelli credendo finita la notte cominciavano a cantare? Abbiamo tante anime che ci danno la possibilità di divertirci e di far uscire tanti aspetti di noi. Ovviamente il teatro è un amore sconfinato e lo è ancora di più, non so, ci si sente ancora più legittimati quando si riesce a calarsi nelle parti di un lavoro così intenso e nella vita sarò per sempre Romeo e nessuno mi toglierà e Ale sarà per sempre giù. Potrò dire che a 80 anni io sono stato Romeo e quindi è una cosa non da poco. cominciare. Grazie.